Dopo le richieste del sindacato delle professioni sanitarie e nursing app Abruzzo sugli sviluppi per le assunzioni degli infermieri, la ASLE di Teramo ha annunciato che è stata firmata la delibera per procedere alla loro assunzione. Il concorso in questione è quello con oltre 5.000 iscritti che metteva in palio 90 posti da infermiere, il cui esito era stato oggetto di numerosi ricorsi da parte di candidati non risultati idonei. Abbiamo adottato gli atti, abbiamo dovuto attendere che venissero presentati i fabbisogni del personale di Regione Abruzzo e che ce li approvassero, dopodiché abbiamo predisposto l'atto di assunzione di questi 90 infermieri. Certo, innanzitutto ci consente di avere una graduatoria disponibile per le future assunzioni, in parte va anche a risolvere delle problematiche, però tanti infermieri già prestavano a tempo di terminare la loro attività, non è che noi potevamo lasciare gli ospedali senza l'assistenza. Questo però ci dà uno strumento che ci consente anche di poter incrementare le dotazioni, considerando il fatto che la Regione ha anche aumentato il budget a disposizione dell'Asle Teramo per i tetti di spesa, appunto, per consentirci nuove assunzioni. Va ricordato che l'Asle, pur approvando la graduatoria un anno fa su consiglio di diversi legali, ha ritenuto di attendere la conclusione dei contenziosi avviati dai ricorrenti davanti ai giudici e a metà marzo, definito in senso favorevole all'azienda il primo grado di giudizio per tutte le cause, è stato annunciato il via libera alle procedure di assunzione. Dunque, con la delibera che è stata appena firmata, a stretto giro i nuovi assunti entreranno in servizio. In processo adesso stiamo facendo tutte le assunzioni, metteremo a tempo indeterminato tutti i vincitori del concorso e dopodiché faremo una valutazione di come poter continuare a implementare anche la graduatoria, tenendo conto anche delle normative nazionali sulle stabilizzazioni, questo è fondamentale.